Il torrente Sintria scende da Zattaglia e confluisce nel segno prima di Tevano. È stato uno dei corsi d'acqua dal quale è iniziata la luvione di maggio. Il torrente è esondato, la frazione brisichellese è rimasta isolata per giorni a causa delle frane senza luce e senza telefono. Il Sintria si è trascinato dietro alberi e terra. Una valanga d'acqua, 24 ore di terrore, l'hanno definiti residenti che poi si è riversato dentro il segno aumentando sempre di più di dimensioni travolgendo Castel Bolognese e Solarolo. Lungo la provinciale Lame, gli alberi si sono ammassati contro il ponte all'incrocio con via Torre Minori. In quasi cinque mesi, l'unico intervento lungo il torrente l'hanno fatto, i residenti tagliando quella montagna di legna. Oggi, in alcuni tratti, dall'alto non si riesce a scorgere il Sintria, ricoperto dalla vegetazione che cresce attorno all'alveo. Sono tantissimi gli alberi corollati nel corso d'acqua o lungo le sponde. Decine gli smottamenti scavati dal torrente ingrossato. Nelle colline feintine la situazione è analoga in molti punti, percorrendo la Cerreta, il Tramazzo, il Samoggia, lo stesso Marzeno, lo Spedena. In questi mesi, nelle loro testimonianze, i residenti di Zattaia hanno raccontato che da decenni non viene eseguita una pulizia del corso d'acqua. Oggi, continua l'incertezza attorno a chi avrà la responsabilità della pulizia dei fiumi al di fuori dei centri abitati e della sistemazione delle arginature. Spetterebbe ai proprietari terrieri che, però, difficilmente, possono permettersi la spesa dopo i danni causati dall'alluvione. La regione non si sa bene che strada intenda perseguire. Nel frattempo, si spera che gli interventi possano rientrare all'interno del piano di messa in sicurezza del territorio a carico della struttura commissariale. Si tratta di chilometri su chilometri, in alcuni tratti, con corsi idrici difficili da raggiungere da metri pesanti. Se è vero che alcuni appalti sembrerebbero pronti a partire, come si vocifra lungo la valle del Sintria, si tratta comunque di lavori che richiederebbero mesi e l'autunno è iniziato. Oggi il Sintria è ai livelli minimi, ma lo era anche a maggio, prima dell'inizio della pioggia.